L'Expo non deve essere pretesto di un evento, parola odiosa, ma deve essere pretesto per creare delle strutture di continuità nella città. Tant'è vero che un'unica giovane, con i quali io vado sovente a sentire, stanno pensando a un'Expo diffusa, piuttosto che a un'Expo concentrata, con la parte monumentale dei paviglioni e poi rimangono cattentrati nel deserto e non servono a nessuno.